In una nota della Real Casa di Savoia è morto Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia e di Maria José, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 12 febbraio. Il principe se n'è andato nella sua casa di Ginevra, circondato dai familiari, l'esilio, gli scandali, le vicende giudiziarie. Nel 2002 Vittorio Emanuele accettò di ripudiare le leggi razziali, giurando sulla Costituzione e rinunciando a qualsiasi pretesa. Vittorio ed Emanuele sono soltanto i suoi primi due nomi in un lungo elenco di 12 nomi, tra cui Damiano Bernardino e anche Gennaro, per onorare la sua nascita a Napoli il 12 febbraio 1937. Re d'Italia era suo nonno Vittorio Emanuele III, che lo proclamò subito principe di Napoli. Comincia così la sua vita nell'Italia monarchica, in cui è secondo in linea di successione al trono dopo suo padre Umberto, principe di Piemonte. Trono su cui si sarebbe seduto un giorno anche il giovane Vittorio Emanuele, che sarebbe diventato il quarto del suo nome. Ma la grande storia travolge Casa Savoia, l'Italia crolla nella Seconda Guerra Mondiale, Vittorio Emanuele III fugge da Roma e non vi farà mai più ritorno. Il principe Umberto viene nominato luogotenente del regno. Sono luogotenente, fa le funzioni di capo dello Stato, ma senza essere re. Diventa re con l'abdicazione di suo padre, il 9 maggio del 1946. A quel punto Vittorio Emanuele è il primo in linea di successione. Il 2 giugno 1946 gli italiani vanno a votare e scelgono la Repubblica. I monarchici contestano i risultati, ci sono violenti scontri con morti e feriti. Il 13 giugno 1946 Umberto II lascia l'Italia e va in Portogallo. Il 18 giugno la Corte di Cassazione proclama la Repubblica. È la fine della monarchia. La Costituzione Repubblicana proibisce ai discendenti di Casa Savoia l'ingresso in Italia. Il principe studia in Svizzera, lavora nell'intermediazione finanziaria. Dopo un lungo fidanzamento sposa Marina Doria. Alcuni settori monarchici contestano il matrimonio perché non sarebbe stato approvato dal padre Umberto II. È l'inizio di una lunga disputa dinastica col ramo Savoia-Osta. Intanto Vittorio Emanuele incappa in una serie di guai. Viene indagato per traffico d'armi, ma l'indagine viene archiviata. Nel 1978 viene arrestato con l'accusa di omicidio. Nell'isola di Cavallò, a sud della Corsica, erano stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco ed era morto il giovane Dirk Hamer. Ma viene prosciolto e condannato solo a sei mesi con la condizionale per porta abusivo d'arma da fuoco. Viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione a delinquere, ma da tutte le accusa sarà sempre assolto. Tra gli eventi che lo vedono discutibile e protagonista ci sono anche alcune frasi in cui minimizza le leggi razziali firmate da suo nonno. Nel 2002 viene abolita la tredicesima norma transitoria della Costituzione e la fine dell'esilio. Vittorio Emanuele rientra in Italia. Dichiara di accettare la fine della monarchia, giura fedeltà alla Repubblica, ma poco dopo chiede allo Stato centinaia di milioni di euro come risarcimento per gli anni dell'esilio. Nel 2022 inizia una causa contro lo Stato per ottenere la restituzione dei gioielli di Casa Savoia custoditi nel cavo della Banca d'Italia a Roma, ma non fa in tempo a seguire gli sviluppi della causa. Il comunicato della Real Casa non sorprende chi da tempo conosceva le ormai precarie condizioni di salute di Vittorio Emanuele. O meglio, su altezza reale Vittorio Emanuele Alberto, Carlo Teodoro Bonifacio, Amedeo Damiano, Gennaro Maria, duca di Savoia e principe di Napoli. Avrebbe compiuto 87 anni fra una settimana il principe che non fu mai re, a sua volta figlio, lui sì, dell'ultimo re d'Italia, quell'Umberto II, il re di Maggio, che fu costretto a lasciare il suolo patrio all'indomani del referendum fra Repubblica e Monarchia. Partì dal Molo Beverello a Napoli nel 46, aveva appena nove anni, e si ritrovò a vivere a Cascais, in Portogallo, lui che aveva scorrazzato bambino al Quirinale. Ma se furono in molti all'epoca a rimpiangere Umberto, pochi in seguito amarono davvero Vittorio Emanuele. Incolpevole, certo, ma sottoposto, come tutti gli eredi maschi, fino al 2002, al divieto di mettere piede nel nostro paese, così come scritto in Costituzione. Poi le leggi cambiarono, lui tornò, ma era ormai il principe che aveva sparato a un ragazzo sull'isola di Cavallò, uccidendolo. L'uomo che aveva fatto storcere il naso agli ultimi nostalgici della nobiltà, sposando a Las Vegas la campionessa di scinautico Marina Doria, sebbene poi nel 71 si celebrò anche il matrimonio religioso, ma a Terran. E' ancora colui che per vivere si era dedicato agli affari, non sempre e non tutti limpidissimi, anzi, tanto da essere più volte indagato. Si accerterà anche una sua affiliazione alla loggia massonica P2, quella di Licio Gelli per intenderci, mentre le accuse di traffico internazionale di armi vennero archiviate. Ma quando si mette a vendere gli elicotteri a gusta, usa il suo nome, l'educazione ricevuta, ottima e diventa decisamente benestante. Vive a Ginevra, a casa a Kstat e in Corsica, cresce il suo unico figlio Emanuele Filiberto, educandolo ai riti dell'ordine mauriziano, ma sapendo bene che ormai nessuna aspirazione al trono sarebbe più stata possibile. Lo racconta ad Alessandro Feroldi, proprio pochi anni dopo il suo ritorno in Italia, dove peraltro non risiederà mai. Ormai la monarchia in Italia non ha più ragion d'essere, sono io il primo ad accettare che vi sia una Repubblica. Si è spento nella sua casa di Ginevra alle 7.05 e di questa mattina circondato dall'affetto della sua famiglia, Vittorio Emanuele di Savoia, ad annunciare la sua morte, un breve comunicato diramato dalla Re Alcasa. Figlio di Umberto II, ultimo re d'Italia e di Maria Iosè, avrebbe compiuto 87 anni prossimo 12 febbraio. Una vita trascorsa per lo più in esilio, la sua, il matrimonio con Maria Doria all'inizio contrastato dal padre e alcune pagine controversie che lo videro coinvolto in alcune inchieste giudiziarie, in un drammatico fatto di cronaca quando fu indagato e poi prosciolto per la morte di un ragazzo tedesco ucciso in una sparatoria sull'isola di Cavallo, in Corsica, nel 1978. Durante l'esilio, terminato nel 2002, Vittorio Emanuele di Savoia ha svolto attività di intermediario finanziario stringendo legami con grandi industriali, in particolare con la famiglia Agusta. Sono disposto a giurare fedeltà alla Costituzione della Repubblica, anche pubblicamente, se proprio lo devo fare, dichiarò alla vigilia dello storico rientro in Italia. Soltanto nel gennaio 2021 la famiglia Savoia condannò le leggi razziali. Figlio di Umberto II, ultimo re d'Italia e di Maria José, Vittorio Emanuele di Savoia è morto stamane alle 7.05 a Ginevra, circondato dai familiari. Se ne è andato serenamente, annuncia in una nota la real casa di Savoia. L'ultimo re dal trono d'Italia avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Era nato a Napoli. Alla sua nascita ricevette anche il titolo di principe di Napoli. Suo padre aveva intenzione di abdicare per renderlo re, ma la storia ne cambiò il destino, quando nel 1946 gli italiani, con il referendum istituzionale, scelsero la Repubblica. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il primo gennaio del 1948, i discendenti maschi della famiglia Savoia furono esiliati dall'Italia. Vissero fra la Svizzera, la Francia e la Corsica fino alla fine del 2002, quando poterono rientrare nel nostro paese. Dopo quasi 13 anni di fidanzamento, Vittorio Emanuele sposò Marina Ricolfi Doria, campionessa di sci d'acqua che non aveva alcun titolo nobiliare. Nonostante la dura opposizione del padre, le nozze vennero celebrate con rito civile a Las Vegas l'11 gennaio del 1970. Dalla loro unione nacque, nel 1972, Emanuele Filiberto. Nella vita di Vittorio Emanuele non sono mancati gli scandali. Nel 1978 venne arrestato per l'omicidio di un ragazzo tedesco, Dirk Hammer, colpito da un proiettile mentre dormiva su una barca in Corsica. Nel 1991 l'assoluzione per l'omicidio. Nel 2010 venne assolto con formula piena anche da altre accuse della procura di potenza. Il desiderio di Vittorio Emanuele è quello di essere sepolto nella basilica di Superga, a Torino. Compiuto 87 anni il prossimo 12 febbraio, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria Giosea, si è serenamente spento a Ginevra, circondato dalla sua famiglia rende noto la Casa Reale. Una vita trascorsa tra Ginevra, la Francia, l'Iran, così piena di imprevisti e controversie da diventare il soggetto di una docu-serie. Erede al trono, a 11 anni ripara in Svizzera insieme ai genitori dopo la sconfitta della monarchia al referendum del 46 e l'inizio dell'esilio. Nel 70 sposa Marina Doria, non nobile, sfidando la disapprovazione del padre, dall'unione nasce Emanuele Filiberto. Nell'estate del 78 lo scandalo che fa tremare Casa Savoia. Vittorio Emanuele è indagato per la morte del 19enne tedesco Dirk Hammer durante una sparatoria sull'isola di Cavallò in Corsica. Assolto in Francia dall'accusa di omicidio e condannato per porto abusivo di armi da fuoco. Nel 2002 il ritorno in Italia con la nuova legge costituzionale, ma i guai giudiziari lo rincorrono. Arrestato e poi assolto nell'inchiesta sul casino di Campioni d'Italia, viene intercettato mentre dice di aver fregato le autorità francesi. La Casa Reale fa sapere che il luogo e la data delle esecui di Vittorio Emanuele saranno comunicati appena possibile. Una vita medieticamente sovraesposta a quella di Vittorio Emanuele di Savoia, unico figlio maschio di Umberto II e Maria José, sovrani solo per poche settimane. Come da tradizione sabauda per i principi ereditari, riceve dal nonno il titolo di principe di Napoli, città dove nasce il 12 febbraio del 37. Ma la storia travolge il suo destino, il referendum del 46, la Repubblica all'esilio, prima in Portogallo, poi in Svizzera con la madre, giovane rampollo reale inseguito dai tabloid, che nelle interviste ribadisce grande nostalgia per la patria lontana. Intanto deve trovarsi un lavoro, si occupa di compravendite di elicotteri fra Italia e paesi arabi. Fra tante pretendenti coronate lui sceglie l'alto locata, ma non Royal Marina Ricolfidoria, campionessa di scinautico. Amore e paparazzi, poi un doppio matrimonio a Las Vegas e Teheran, contrastato da Casa Reale e soprattutto dal padre Umberto. Fra i due sorge un muro che nemmeno la nascita del figlio Emanuele Filiberto demolirà mai del tutto. Nel 78 una questione ben più grave riporta Vittorio sotto i riflettori, l'arresto per l'omicidio del giovane tedesco Dirk Hammer, ucciso da un proiettile mentre era in barca a largo della Corsica. Il principe si proclama innocente, alla fine viene assolto, ma con una condanna per porto abusivo di armi da fuoco. Nel 2002, con la modifica costituzionale, corona il sogno di rientrare in Italia, mentre torna alla ribalta la turbolenta che rel dinastica col cugino Amedeo di Savoia Osta per il ruolo virtuale di capo della Real Casa. Nel 2006 la procura di potenza, che gli contesta gravi illeciti, fra cui corruzione e associazione a delinquere, apre una nuova stagione di traversie legali, risolte con l'assoluzione piena e un congruo risarcimento devoluto dal principe in beneficenza. A dare la notizia è stata la Real Casa. Il linguaggio è quello antico dei solenni annunci regali. Alle ore 7.05 di questa mattina, su Altezza Reale, Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, si è serenamente spento in Ginevra. Unico figlio maschio di Umberto II, ultimo re d'Italia, insieme con la famiglia, a seguito del referendum del 1946, fu costretto all'esilio con la madre e le sorelle. Si trasferiscono in Portogallo. Malgrado il padre non fosse favorevole, sposerà la borghese Marina Ricolfi Doria, campionessa di sci d'acqua ed erede dell'industria dolciaria. Nel 1973 nasce Emanuele Filiberto e nel 1978, che però arriva allo scandalo, Vittorio Emanuele viene arrestato dalla giustizia francese per l'omicidio del tedesco Dirk Geert Hamer, colpito da un proiettile mentre dormiva in una barca in Corsica e morto dopo quattro mesi di agonia. Nel 1991 arriva l'assoluzione per l'omicidio ma anche la condanna a sei mesi con la condizionale per porto abusivo d'arma da fuoco. Nel 2002 una nuova legge favorisce il rientro in Italia del Savoia sbarcano a Napoli nel 2006 in nuovo guaio giudiziario. Ai domiciliari con accuse gravi che vanno dalla corruzione finalizzata al gioco d'azzardo l'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Verrà poi assolto per una giornata molto difficile, molto triste però una giornata devo dire dove abbiamo potuto con la famiglia essere tutti insieme intorno a papà in questi ultimi momenti. mio padre era in ospedale da tre settimane per una forte infezione ha lottato il più possibile come ha sempre fatto nella vita purtroppo oggi si è spento e eravamo tutti lì con lui abbiamo ancora ieri sera potuto ridere e scherzare insieme mio padre era il mio amico era il mio confidente era il mio maestro ecco oggi perdo e perdiamo diciamo con la famiglia una persona veramente meravigliosa vedendo tutti i messaggi voglio veramente ringraziare tutti 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 quelli che hanno scritto da famiglia reale ai rappresentanti anche del governo italiano e soprattutto agli amici e ai monarchici e a tutti quelli che lo conoscevano per il momento è ancora in ospedale stiamo trasferendo in una camera ardente qua a Ginevra stiamo vedendo adesso forse di fare il funerale in un luogo con una più grande capienza per poter accogliere tutti e come sua ultima volontà era di essere sepolto a Superga dopo andare a Superga il ferretro è appoggiato a terra avvolto da una bandiera con lo stendardo bianco e rosso di casa Savoia poco più avanti una corona di rose che replica con gli stessi colori lo stemma reale cielo grigio e la fitta pioggia non hanno frenato il lento pellegrinaggio di persone iniziato poco dopo le 13 e proseguito per l'intero pomeriggio per rendere omaggio a Vittorio Emanuele di Savoia nella cappella Juva Ariana di Sant'Uberto all'ingresso della regia di Veneria è la loro città praticamente non per niente Sabauto Savoia siamo qui cioè non è che possiamo dimenticare le loro radici poco dopo alle 12 l'arrivo del ferretro accompagnato da Emanuele Filiberto il primo dei Savoia ad arrivare a Veneria un cuscino di fiori rossi e bianchi e blu a disegnare lo stemma reale sulla cassa che una volta entrata in chiesa e adagiate ai piedi dell'altare è stata coperta dallo stendardo reale come tradizione vuole poco prima delle 14.30 la visita del presidente del senato Ignazio Larussa la vedova del principe Marina Doria che a giorni coprirà 89 anni nello stesso giorno nel quale Vittorio Emanuele ne avrebbe compiuti 87 è arrivata da Ginevra attorno alle 16 la camera ardente resterà aperta fino alle 21 di oggi domani alle 15 funerali nel Duomo di Torino alla presenza di Alberto di Monaco del Granduca Jean di Lussemburgo e di decine di altre teste coronate provenienti da mezza Europa per omaggiare il feretro di Vittorio Emanuele varca la soglia del Duomo di Torino pochi minuti prima delle 15 arriva in chiesa con una bandiera italiana adagiata sulla bara che viene coperta con un drappo rosso con lo stemma di casa Savoia poi viene deposta per terra su un tappeto al centro del sagrato come impone la tradizione reale l'ultimo ad entrare in chiesa è il figlio Emanuele Filiberto che accompagna il feretro e poi si va a sedere a sinistra dell'altare vicino alla mamma Marina Doria di fianco alla cappella che ospita la Sacra Sindone ci sono anche tutti gli altri membri della famiglia Savoia dalla parte opposta ai membri delle famiglie reali arrivate a Torino da ogni parte d'Europa e del mondo all'interno del Duomo 450 persone hanno ascoltato commosse l'omelia di Monsignor Paolo De Nicolò che ha anche evocato il legame tra la famiglia Savoia e la storia d'Italia un cittadino italiano che amava il suo paese che amava gli italiani e che ha provato attraverso i suoi ordini a fare del bene sono le note dell'inno sardo ad accompagnare il feretro di Vittorio Emanuele fuori dalla chiesa a cerimonia conclusa 4.000 persone avevano voluto rendere omaggio al figlio dell'ultimo re d'Italia alla camera ardente allestita alla reggia di Veneria fuori dal Duomo sono circa in 300 sotto una pioggia incessante c'è l'ultimo bacio della moglie Marina Doria quello del figlio Vittorio Emanuele riposerà nella basilica di Superga nella cripta reale insieme a molti dei suoi antenati per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia Torino ha accolto in Duomo i rappresentanti di varie casate reali e non solo oltre 400 persone selezionate su invito nobili teste coronate personaggi noti dell'imprenditoria hanno omaggiato con la loro presenza il figlio dell'ultimo re d'Italia oltre alla moglie Marina Doria capelli raccolti accanto al figlio Emanuele Filiberto accompagnato dalla moglie e dalle figlie Vittoria e Luisa la sorella maggiore di Vittorio Emanuele la principessa Maria Pia di Savoia accompagnata dai figli principi di Jugoslavia e poi il principe Aimone e la principessa Olga di Savoia a Osta presenti il granduca Henry di Lussemburgo la regina Sofia di Spagna e il principe Alberto di Monaco che alla fine della cerimonia sul sagrato della chiesa ha stretto la mano ad Emanuele Filiberto anche il pontefice ha inviato le condoglianze alla famiglia tramite un messaggio letto al termine della cerimonia funebre principi e coronati anche dall'Arabia Saudita dal Belgio dall'Albania dalla Serbia e dal Portogallo nonché i discendenti dei Borbone di Napoleone persino di Garibaldi ma oltre a principi e anche rappresentanti della politica e delle amministrazioni locali chi non c'era ha mandato mazzi di fiori e messaggi di cordoglio come la famiglia reale britannica che ha inviato una lettera di condoglianze all'Arabia Saudita